Ciao Massimo, Massimo Cavozzi, colui che ha creato questo Instagram dedicato agli anni 80 che sta andando oltretutto molto bene, mi ha chiesto di parlare un po' di... vabbè, tu hai EM, DeLorean, l'album dove ce l'ho, neanche mi sono organizzato, aspetta che lo prendo eccolo qua è un progetto totalmente, no, totalmente no, ma è un progetto musicale dalle sonorità anni 80 infatti come potete vedere è stato fatto anche il vinile che è nato oltretutto molto molto bene il doppio vinile e vabbè dalla copertina, partiamo dalla copertina, la copertina come si può vedere c'è un cd, però il cd si è fino agli anni 80, 90, che poi in verità il cd è nato quasi verso la metà degli anni 80, c'è una cassetta, c'è lo stereo, c'è il giubbotto di Martin McFly rosso, il guanto di Spider-Man la spada laser, questa è la spada laser di Luke, le Nike di Ritorno al futuro, ci sono stai ridendo, tu so che stai ridendo Cavazzi, che è passata adesso l'autoambulanza ed è un album, diciamo che per la prima volta ho voluto fare un qualcosa di mio, non seguire le mode, non seguire le linee ma veramente, proprio esprimersi, dicevo io faccio un quadro, se quel quadro piace, chi piace se lo guarda la stessa cosa alla fine è la musica, io faccio un genere che mi piace a me, ho voluto fare un pop elettronico dalle sonorità agli anni 80 con vari cantanti, il vinile è andato molto bene, è andato bene, il vinile è andato bene mi aspettavo molto meno, quindi voglio essere sincero, è andato veramente bene, sono contento l'album contiene un sacco di canzoni sempre dalle sonorità 80, tanti dicono hai fatto una roba anni 90 non ho fatto una roba anni 90, ho fatto proprio uno stile mio con le sonorità agli 80, punto cioè i 90 proprio non esistono, sì c'è la canzone oggi è il 93, però se senti le sonorità sono degli anni 80 quindi è un viaggio nel tempo, andate, ritorno, avanti, indietro, destra, sinistra, dai, dè, capito? e voi mi avete chiesto di DeLorean, allora DeLorean nasce dal, innanzitutto io ho fatto questa base la canzone, poi avevo bisogno di un, il testo, me l'ha, me l'ha scritto Fabio Lisei però io sono andato da Fabio e ho detto Fabio, senti io ho bisogno di un testo perché vorrei fare una canzone dove parla di me, o comunque di questo ragazzo che va indietro nel tempo, con la macchina del tempo quindi la DeLorean, per andare da se stesso, cioè da lui, a rassicurarlo, a dirgli stai tranquillo tu vedrai che andrà tutto bene, starei bene nel futuro, avrai una bella vita, farei una famiglia, avrai un lavoro e quindi sarebbe bello per ognuno di noi, se dovesse arrivare noi stesso, me stesso, dal futuro a dirmi adesso, dimmi guarda che crepi a 60 anni, tu invece sei convinto di fare 80, 90, scherzo in quel caso no, preferisco non venire, però se vieni quando sono ragazzino, sono piccolo che sono giovane, insicuro, non so le cose, che arrivi tu e mi rassicuri, per me è una bella cosa ho pensato questa roba, allora Fabio me l'ha scritta ed era un brano all'interno dell'album 2.i.m, mentre negli ultimi giorni, pochi giorni fa è uscito sia il video, purtroppo con il periodo che c'è stato non abbiamo avuto grandi possibilità di creare un video proprio girato, non avevamo neanche il tempo, oltretutto facendo lo zoo a quel periodo di primo settembre eravamo tutti dedicati, il tempo era dedicato per il programma per la partenza, per la ripartenza, e quindi niente, questo è quanto, poi basta, basta 2.i.m è disponibile in tutti i digital store ancora, lo trovate su Amazon, lo trovate anche autografato, ci dovrebbe essere la copia autografata, infatti mi sono distrutto la mano a firmare non so quante copie, e basta, detto questo... hai capito no? che poi dopo qualcosa... sono contento però, sono contento, perché è bello, è proprio bello, bellissimo anche da tenere così, sul comodino, no, sul comodino no, potrebbe dare fastidio, poi vabbè c'è la Gab, 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 l'ho messa dentro, comunque era una roba, perché comunque sono legato molto a quel periodo degli anni 80, a parte perché è stato... allora io sono legato alla metà, tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90, perché quello è stato il centro della mia, diciamo, gioventù, se possiamo chiamarla, bollimitata, perché comunque non ci sono, non c'erano i mezzi di adesso per esprimersi, per voler fare, io per fare la radio ho dovuto venire a Milano, da Torino, adesso non sarei, non l'avrei neanche fatto, avrei lavorato sui social, ecco, il mondo è cambiato, però ai tempi la radio era l'unico mezzo per esporsi, per farsi vedere, e poi vabbè, la radio mi piaceva, volevo fare la radio e quindi così è stato, però è legato molto alle sonorità, alle melodie, a quello che ho vissuto in quel periodo, il primo amore, in quel periodo c'era Sandra, c'erano tutte quelle, vabbè, Duran Duran, però c'erano anche quelle canzoni molto dolci che facevano Sandra, 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 poi c'era che faceva altre, vabbè, i Depeche Mode, figa, ciao, Depeche Mode, non puoi capire, se te, non dico, no, mi sono anche un gazzio, comunque i Depeche Mode, anche se sinceramente, ma sì, c'è qualcosa dei Depeche Mode, le melodie, queste melodie che ti colpiscono un po' il cuore, no, non sono app, sono melodie che ti fanno pensare, è tutto un viaggione, vi anticipo già che all'interno dell'album, il primo singolo che si chiama 2IM è strumentale, tra pochi giorni uscirà la versione cantata, l'ho finita adesso, sono stato collegato fino adesso con uno studio per farla, per fare il master, quindi tra pochi giorni uscirà, i video li trovate su YouTube di Oggi del 93 e di DeLorean, l'album lo trovate nei migliori di negozi di dischi, è su Amazon o su Selfie.it, comunque ci sarà il link per arrivare a tutti, quindi iTunes, Apple Music, Spotify, bla bla bla, Amazon, lo trovate dappertutto praticamente. Detto questo vi ringrazio, è stato molto bello e che dire, va legato alla Marena, eh? Super stereo però, dai, ciao!